La città di Brindisi continua a vivere come un incubo in rapporto con AVR per l'ambiente, l'azienda a cui è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le segnalazioni riguardanti le carenze del servizio giungono da ogni quartiere della città e il sistema di controlli predisposto dall'amministrazione comunale purtroppo non funziona come dovrebbe, con la conseguenza che spesso le lamentele dei cittadini restano inascoltate. Adesso però si è innescata anche una nuova polemica che interessa l'azienda in riferimento alle assunzioni a tempo determinato effettuate nelle scorse settimane. Secondo alcuni ci sarebbe un fenomeno di parentopoli, il tutto nonostante l'invito pressante dell'amministrazione comunale di procedere con criteri di assoluta trasparenza nell'effettuazione di assunzioni. Certo parliamo di una società privata, ma non può essere trascurato il fatto che la stessa effettua un importante servizio pubblico. E non è da meno la denuncia delle organizzazioni sindacali che sarebbero state tirate in ballo per presunte segnalazioni legate alle nuove assunzioni. La FIA del esempio si dichiara totalmente strana a questa vicenda e minaccia anche azioni legali, oltre a chiedere all'azienda di fare chiarezza su chi e come ha fatto segnalazioni. Una nota dello stesso tenore è giunta alle redazioni anche da parte della CGL, mentre il consigliere comunale Roberto Quarta propone al sindaco riorganizzare un incontro per ascoltare contemporaneamente le posizioni dell'azienda e dei sindacati. Nel frattempo, e questo va ribadito a chiare lettere, la città resta sporca e tante contestazioni fatte a chi effettua il servizio restano in e barsi.